...resa nota al Comune in una riunione di maggioranza di pochi giorni fa. Ed ora? Segnalazione shock. La figlia 14enne viene colpita da un'emorragia cerebrale al San Bastiano e ancora in attesa di una visita. Cancello chiuso alla spiagetta di Via Pustera, l'ex assessore campagnolo è l'ennesimo pasticcio dell'amministrazione Pavan. Continuano le indagini delle due dottoresse di base accusate di aver fatto falsi vaccini anti-Covid. Dopo una violenta lita in famiglia, requisite armi e munizioni ad un 52enne di Rosà ha revocato il porto d'armi. La guardia di finanza scopre 5 lavoratori irregolari in un negozio di articoli per la casa. Dopo il furto della madonina di Ramon di Loria, grande festa per la nuova statua donata da un privato. Nella giornata mondiale contro il cancro infantile, Eric, 17 anni, ci racconta la sua battaglia contro la leucemia. Dopo il tragico incidente costato la vita a Giordano, riaprono le discussioni sulla necessità di intervenire sulla 308. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. Iniziamo subito il nostro telegiornale con la situazione dell'ISAC di Bassano che sarebbe stata portata all'attenzione dell'amministrazione di Elena Pavan già a dicembre. Poi in una riunione di maggioranza anche di pochi giorni fa. Ed ora cosa succede? Tanto tuonò che piove, dice il vecchio adagio. E se sull'ISAC di Bassano stanno piovendo oggi agitazioni sindacali e lamentele da parte dei familiari degli ospiti, pare proprio che i tuoni si stiano facendo sentire. Già da qualche tempo ne sanno qualcosa dalle parti di Via Matteotti, più precisamente nella sede municipale, dove sembra che le problematiche dell'istituto fossero già state palesate al sindaco Elena Pavan qualche giorno prima di Natale. Si parla poi di una recentissima riunione di maggioranza dai toni piuttosto tesi, sempre sullo stesso argomento. Ovvero aumenti dei costi e di conseguenza delle rette, frizioni con il personale e un'emorragia di ospiti. In entrambe le riunioni sarebbe stato proprio il presidente del CDA, Clemente Peserico, a parlare con la controparte politica della situazione attuale e delle possibili ricadute future. Ricadute che si sono concretizzate con un paio di delibere balzate all'onore delle cronache cittadine. Prima quella che affidava a un legale lo studio di un iter per il cambio di personalità giuridica dell'ISAC, preludio di una privatizzazione o di un mutamento in fondazione. La seconda, adottata a gennaio, che alzava le rette di almeno 10 euro al giorno per ogni ospite, con conseguenze lamentate dalle famiglie che si trovano ora a dover spendere migliaia di euro in più all'anno per i propri cari. Dei due incontri, quello con il sindaco e giunta e quello con la maggioranza di Elena Pavan, non ci sono ovviamente verbali, mentre la vivace riunione della Commissione Quarta è stata seguita da molti cittadini preoccupati per quel che sta succedendo all'ISAC. E va inserito nella lista degli eventi rilevanti anche l'incontro in prefettura a Vicenza tra Peserico e i sindacati, con conseguente fumata nerissima sui temi all'ordine del giorno. Mettendo in fila queste informazioni, viene da chiedersi e da chiedere alla politica cittadina erano conosciuti i problemi dell'ISAC, erano state annunciate azioni da parte delle CDA, poi diventate delibere, e soprattutto, quali sono le intenzioni dell'amministrazione di Elena Pavan sul futuro delle case di riposo? È l'ennesimo pasticcio dell'amministrazione Pavan. Così, l'ex assessore ai lavori pubblici di Bassano in merito alla spiaggetta di via Pusterla ancora chiusa da un cancello. Stiamo assistendo all'ennesimo pasticcio, all'ennesimo annuncio poi ritrattato, all'ennesimo impegno non mantenuto da parte dell'amministrazione Pavan. E qui, parodiando Gadda, parliamo di quel pasticciaccio brutto di via Pusterla. Sì, perché definitivamente accantonato il progetto della centralina sul fiume Brenta, a ridosso del Ponte Vecchio, Monumento Nazionale, chiusi i cantieri, via transenne e tabelle? È la gente che si chiede perché deve continuare a restare chiuso quel cancello che porta alla spiaggetta dei Bassanesi? L'assessore Andrea Zonta, ai nostri microfoni, parla di accordi tra pubblico e privato necessari per riaprire quel benedetto lucchetto, perché è un pezzo di terra del comune, è un pezzo di un privato, uno de maniale. E ci ha detto che la prossima primavera, forse, perché vuol dire tra poco più di un mese, la spiaggetta tornerà fruibile ai Bassanesi che tanto amano quell'angolo di verde fresco della loro città. Ma quello che non si riesce a capire è come mai, fino a poco prima del cantiere, l'accesso alla spiaggetta era assolutamente libero a tutti, senza tanti discorsi di pubblico, privato, accordi, concessioni e quant'altro. E ora che tutto potrebbe tornare come prima, ci sono mille problemi da affrontare. Non ha dubbi l'ex assessore ai lavori pubblici, Roberto Campagnolo. Il ponte è di proprietà comunale, dove c'è il cancello. La stragrande maggioranza dell'area è area demaniale, tale quale a qualsiasi sponda del Brenta. Quindi anche quel pezzo è facilmente apribile. Basta che il comune vada lì e tolga quel cancello che è sopra un ponticello di cemento che è di proprietà del comune. Quindi non si capisce perché lasciano lì quel cancello chiuso. Questa cosa è incredibile e le giustificazioni che l'amministrazione sta dando ancora una volta sono campate in aria, ci si arrampica sugli specchi, si prende tempo solo perché non si ha la capacità di prendersi responsabilità nei confronti della città che si sta governando. Segnalazione shock di una mamma. La figlia, 14 anni, viene colpita da un'emorragia cerebrale e all'ospedale di Bassano è ancora in attesa di una visita. La mia figlia il 17 di novembre ha avuto un'emorragia cerebrale dovuta a una malformazione congenita. Inizia così il racconto di una mamma che ha visto sua figlia di 14 anni rischiare la vita per poi essere salvata dai medici dell'Ulss 2. La famiglia vive a Tezze sul Brenta e dopo aver intrapreso un percorso con un logopedista è diventata necessaria e urgente una visita oculistica. E qui sono iniziati i problemi con l'Ulss 7 con le attese e come ci racconta la mamma della 14enne con il suggerimento di rivolgersi ai privati. C'era una tempistica da rispettare che erano i 30 giorni e quindi sono passati due mesi. Il medico che ha fatto la visita oculistica mi ha detto guardi signora mi raccomando prenda di nuovo contatti con il CUP di Bassano e faccia fare questa visita oculistica perché per lei è importante. Siamo andati ci hanno detto che la lista è troppo lunga che ci sono altre persone che hanno lo stesso problema e di trovare altre soluzioni con il mio medico. Al Cale ho detto quali sarebbero le altre soluzioni che devo andare a pagamento e mi ha fatto capire di sì. Il problema di mia figlia è un problema molto grave e io devo convivere ogni giorno con mia figlia che mi dice male all'occhio, male all'occhio però non riusciamo ad avere insomma questa visita. Ho addirittura chiesto almeno fatemi capire che tempistiche ci sono un mese, tre mesi, otto mesi e lei mi ha detto signora può essere anche un anno. Avete capito bene un anno per una visita oculistica urgente a una ragazzina di 14 anni che ha avuto un'emorragia cerebrale. La soluzione? Pagare la visita. Io non lo trovo giusto perché già abbiamo fatto altre visite a pagamento dove si pagano parecchio comunque siamo una famiglia di cinque persone dopo quello che ha avuto un evento molto molto grave e che continua a dirmi mamma ho male, mamma ho male, mamma ho male ok mi viene a dire va bene andiamo a pagamento facciamo questa visita però non è corretto non è giusto non è giusto perché il problema è grave E continuano le segnalazioni sulle due dottoresse di base accusate di aver fatto falsi vaccini anti-covid Proseguono con nuovi controlli le indagini della Guardia di Finanza relativa all'operato di due mediche di base una 57enne di Bassano e una 48enne di Romano accusate di falso e truffa l'ipotesi è che le due professioniste abbiano somministrato falsi vaccini pure a pazienti non assistiti da loro provenienti anche da fuori regione le fiamme gialle hanno incentrato la loro attenzione sulla farmacia dell'ospedale e sono emerse 18 fiale di siero che non sarebbero mai state assegnate alle due dottoresse che però avrebbero ammesso ad averli somministrati tra settembre e dicembre 2021 è infatti emerso che il numero di lotto delle fiale corrisponderebbe a quello affidato ad altri medici le due avrebbero dichiarato di aver inoculato sieri in realtà mai ritirati contestualmente la Guardia di Finanza sta ascoltando anche alcune delle persone che si sarebbero rivolte alle due mediche per la vaccinazione anti-covid portando alla luce diverse incongruenze le indagini continuano e sempre la Guardia di Finanza ha scoperto 5 lavoratori irregolari in un negozio di articoli per la casa lavoravano parzialmente in nero in un negozio di articoli per la casa e per il fai-da-te i controlli della Guardia di Finanza di Bassano in collaborazione con i funzionari dell'ispettorato territoriale del lavoro hanno fatto emergere una situazione di irregolarità per 5 lavoratori cinesi con nazionali del titolare del negozio assunti con contratti part-time anche se in realtà erano impiegati a tempo pieno dalle verifiche sulla documentazione contabile sono state riscontrate violazioni contrattuali e normative tra cui l'infedele registrazione delle ore di lavoro l'omessa denuncia di imponibili premi e contributi per l'attività realmente prestata in relazione alla posizione dei 5 lavoratori irregolari le fiamme gialle hanno elevato nei confronti del titolare dell'attività commerciale una sanzione amministrativa di 10.000 euro a cui si sommeranno i recuperi a tassazione degli uffici finanziari previdenziali e assistenziali e dopo una violenta lite in famiglia sono state requisite armi e munizioni ad un 52enne di Rosà una violenta lite in famiglia marito e moglie che si picchiano e si lanciano bottiglie di vetro e suppellettili il problema è che in casa c'è anche un arsenale 5 fucili una pistola e una carabina troppo rischioso lasciare tutte quelle armi all'interno di un'abitazione dove più volte si sono verificati litigi e aggressioni tra i due coniugi per questo la polizia intervenuta sul posto ha avviato tutta una serie di controlli a carico dell'uomo un 52enne di Rosà titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia al termine del procedimento il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso il provvedimento di revoca del porto d'armi e ha disposto il sequestro di fucili e pistole di Rosà Tese è stato denunciato anche per omessa custodia di armi visto che uno dei fucili non era depositato all'interno dell'armadio blindato ma lasciato incustodito a disposizione pure del figlio minorenne gli agenti di polizia inoltre hanno sequestrato 141 cartucce calibro 12 anche queste custodite in un luogo non autorizzato in uno zaino a casa della madre e ancora animali sbranati dai lupi sull'altopiano di Asiago la denuncia di un nostro telespettatore guardate dal Monte Grappa e dall'altopiano di Asiago continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini che riferiscono di assalti di lupi e di animali sbranati l'ultima in ordine di tempo ci arriva dal signor Lanfranco che abita a Fontanelle di Conco incontrà Frighi ogni mattina racconta porto il mio cane a fare una passeggiata lungo il sentiero la scaletta e mi accorgo che non ci sono più ungulati che invece fino ad alcuni anni fa incontravo a decine ora continua il signor Lanfranco ho paura per il mio cane questa mattina l'ennesima sorpresa una volpe sbranata scoperta senza vita tra le foglie sono stanco conclude di notte si sentono forti i latrati dei lupi questo lo sfogo del signor Lanfranco che in realtà dà voce alla denuncia di tanti altri cittadini delle nostre montagne e a Ramon di Loria grande festa per la nuova madonnina della Capitello in via Brentelle dopo che la precedente era stata rubata possono fermarsi nuovamente per una preghiera alla madonnina di via Brentelle i risidenti di Ramon di Loria sì perché dopo il furto della statua avvenuto lo scorso gennaio di cui vi avevamo dato conto nei nostri TG quando i soliti ignoti la stradicarono dal basamento facendola sparire un privato ha deciso di donare alla comunità una nuova statua della Vergine facendo davvero trionfare il senso di collettività e partecipazione e allora assieme al sindaco Simone Baggio l'intera via e i laterali hanno accolto la nuova statua con una grande festa tra preghiere culminata addirittura con i fuochi d'artificio dopo il furto della statua erano stati i propri residenti infatti a lanciare un appello ai ladri infatti bravi riportatela l'importante è che la mamolina torni al suo posto perché per noi è una cosa che ci sta sul cuore insomma per noi è importantissima quella statuina ma ancora nulla e il primo cittadino ci ha fatto sapere che continuano le indagini per risalire agli autori del gesto e in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile Eric 17 anni di Molvena ci racconta la sua storia di guerriero contro la leucemia un guerriero non può abbassare la testa altrimenti perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni Eric lo sa bene perché da quando nel 2013 gli hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta lui non ha mai smesso di lottare non ha mai abbassato la testa davvero guerriero e in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile la sua storia diventa un esempio per tutti perché Eric grande appassionato di calcio sta vincendo la sua sfida più importante grazie all'amore della sua famiglia ai medici ma soprattutto grazie allo sport lo sport mi ha aiutato tanto fin da quando avevo 8 anni da quando mi è stata diagnosticata la malattia mi ha sempre accompagnato nel mio percorso di cure chemioterapiche mi ha accompagnato dopo e mi accompagnerà per tutta la vita dopo una lunga riabilitazione Eric è tornato in campo a giocare sul serio a sfidare gli ostacoli di una vita che lui non ha mai voluto aggirare perché al suo fianco ci sono sempre stati i genitori il fratello Kevin e la sorella Denise mi hanno detto che in pratica la malattia erano gli avversari e io dovevo con la palla scartarli e fare gol quindi vuol dire salvarmi e per salvarsi Eric ha fatto di tutto al punto da chiedere un certificato di idoneità sportiva mentre era ancora in ospedale perché i guerrieri non vogliono guardare la vita vogliono viverla le emozioni che si provano a tornare in campo sono senso di libertà felicità gioia e spensieratezza la prima volta che ho ricalcato un campo da calcio è stata un'emozione unica non sembrava vero la forza la trovo in più punti uno è la mia famiglia e altri sono per dare un esempio a tutte le persone che magari si sentono sole o si sentono diverse per questa sfortuna chiamiamola e questo è stato un punto importante per far sì che continuassi a lottare adesso Erika ha un sogno grande come la sua determinazione il mio sogno è di realizzare una squadra di calcetto composto da ragazzi e ragazze che hanno avuto malattie onqueumatologiche perché credo che ognuno di loro abbia una storia e abbia qualcosa da dimostrare e domenica a Romano Dezelino torna la passeggiata di San Valentino Romano Dezelino festeggia l'amore a passeggio e lo fa domenica 19 febbraio con la passeggiata di San Valentino un'iniziativa promossa dalla Proloco in collaborazione con il Comune e numerose associazioni del territorio la partenza intanto è da Villa Negri ci saranno due percorsi un percorso un po' più lungo di 9 chilometri mentre l'altro sarà di 4-5 chilometri più adatto alle famiglie oppure ai passeggini ai bambini insomma alle prime 250 donne che si presenteranno alla partenza verrà anche consegnato un omaggio floreale si passeggerà tra i colli e le valli di Romano Dezelino ci sarà un ristoro a metà percorso vicino al colle di Dante e un altro alla fine ed ora vediamo altre brevi notizie del territorio anche il comune di Tez aderisce al bando della regione Veneto finalizzato all'erogazione di contributi alle imprese prevalente o totale partecipazione femminile è stato prorogato al 20 febbraio il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando per un anno di servizio civile nel comune di Asiago possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni a Bassano del Grappa sarà istituito il divieto di trasito temporaneo dal 20 al 24 febbraio sul tratto sud del sentiero pedonale lungo il fiume Vrenda il tragico incidente costato la vita a Giordano Sanginiti ha riaperto le discussioni sulla necessità di intervenire sulla strada regionale 308 del Santo e il sindaco di Cadoneg Schiesaro dice tra due anni ci saranno i cantieri del nuovo ospedale e la strada sarà raddoppiata buche avvallamenti una strada deteriorata inadeguata alla mole di traffico la regionale 308 del Santo da Padova a Resana dal capoluogo alla Piedemontana una strada a una sola corsia per senso di marcia nata vecchia sostiene chi vive nei comuni che la attraversano mano a mano che passa il tempo si deteriora sempre di più e il traffico aumenta si parla dai 25 ai 35 mila veicoli giorno senza contare naturalmente l'incidenza di mezzi pesanti sulla grave situazione del manto stradale continuano le segnalazioni potrebbe essere stata una buca costare la vita a Giordano Sanginiti giovane che la percorreva in moto sabato 4 febbraio se lungo il tracciato è stato posizionato un cartello il problema resta è il tratto di Cadoneg che è quello con l'asfalto migliore grazie a una convenzione sottoscritta con Veneto Strade per la redistribuzione dei soldi delle sanzioni per la velocità circa 400 mila euro l'anno abbiamo raschiato il terreno di circa 3 centimetri e poi abbiamo effettuato una nuova asfaltatura con segnaletica verticale orizzontale nuova sistemati anche i guardrail è fatta la regolare manutenzione dei giunti di collegamento per Cises Chiesaro tra due anni privano i cantieri del nuovo ospedale di Padova ricorda il sindaco che è anche consigliere la viabilità per la provincia la strada regionale 308 va ripensata prima che il nuovo ospedale nasca ci sarà traffico pesante perché bisogna anche costruirlo e se noi vogliamo che questa direttrice stradale continui a funzionare dobbiamo già immaginare un raddoppio prima serata invece con Focus ospiti questa sera del nostro direttore Luigi Bacciaglia Focus saranno Claudia Brugioni Giancarlo Iannicelli Michela Morellato Valentina Pillon Francesca Zaccariotto Mario Fabris Giorgio Granello e Patrizio Miatello siamo in chiusura di telegiornale e come sempre vediamo le previsioni del tempo di domani ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia buona serata